Non ci stavano dubbi a riguardo, Roberto, te lo dissi, ma io proprio sto tranquillissimo, ormai è lo sbando più totale. Quello che si semina si raccoglie e quindi ringraziamo l'operato di questi otto anni per la peggior dirigenza della storia della Roma. Sta facendo più danni questa dirigenza, pseudo dirigenza, la Roma che non un rinoceronte, un negozio di ceramiche e cristalli. Grazie.